13 febbraio 2020, Borgno, seconda giornata a Borgno e qui siamo ancora una volta sulla pista B4 stella alpina, pista rossa una parte del cielo si sta coprendo, quella proprio dove c'è il sole e quindi andiamo a fare le ultime discese della giornata ovviamente video in 4k, 30 fps super view con la gopro, iro 7 black per ora il sole ha ancora la meglio sulle nuvole che si avvicinano e quindi godiamoci questa bella discesa con un'ottima luce e se ancora non l'avete fatto per questo iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche e già che ci siete continuidete sui social i video che preferite volendo potete seguirmi anche su twitter e perché no anche su instagram vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo vi ricordo che ci sono e andiamo a farci una discesa lungo la pista rossa genziana e 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 uscito nuovamente il sole per qualche istante condizioni comunque di luce abbastanza strana e 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 qui si pone il dilemma fermarsi e finire qui la seconda giornata o ci sta una ulteriore discesa sembra essere uscito di nuovo il sole quasi quasi e 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 ce ne facciamo un'altra di discesa questa sì che è l'ultima di nuovo giù lungo la pista genziana pista rossa e e e e condizioni di luce sempre un po' così così questa sarà veramente l'ultima e 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 come prima viste le condizioni di luce un po' precaria scegliamo la via più semplice pista blu bosco basso e 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 qui le condizioni di luce sono talmente strane ballerine problematiche da fare impazzire un po' anche la gopro non sa quale e quali valori scegliere e visto che la gopro non sa cosa decidere come valori di luminosità decidiamo noi di fare un salto in avanti e 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 visto che questa è l'ultima discesa di questa seconda giornata a bormio è inutile che io mi faccio una lunga camminata dalla funiglia fino all'albergo quando l'albergo qui mi fermo in questo spiazzo e poi due passi e sono arrivati questo video è finito metti mi piace iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati e guarda altri video ce ne sono di vari generi i video delle giornate di sci a bormio continuano ciao alla prossima e e e e e e e e e